La città di Vallefoglia e i comuni limitrofi sono territori ricchi di fiumi, torrenti e fossi e mai come ora, a seguito dell'alluvione che ha colpito le Marche, è importante una pulizia e una manutenzione degli argini. La situazione non è delle migliori e come vi abbiamo mostrato ieri per quanto riguarda il fosso di Apsella, anche per il fosso Taccone per il fiume Foglia occorre un pronto intervento. Intervento richiesto non solo dalla cittadinanza, ma anche dal sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli, tramite un reclamo presentato alla Regione Marche, responsabile della manutenzione dei fiumi. I fiumi una volta erano a competenza dello Stato, poi della provincia, oggi sono a competenza della Regione. Io credo che bisogna autorizzare a togliere tutti quegli alberi che sono caduti, che sono tutti secchi, darli gratuitamente ai cittadini piuttosto che comprare la legna a 20 euro e togliere il pericolo perché, francamente, quelli fanno delle paratie che portano via tutti i punti, fanno disastri incalcolabili. E poi bisogna interloquire con il mondo dell'agricoltura per ritornare a fare la manutenzione, la pulizia dei fossi e la manutenzione idraulica del territorio. Fondamentalmente è una cosa certamente non difficile e se non succedono cose, diciamo, impossibili da prevedere, ma tutto è prevedibile, ogni tanto mandano un messaggino, allerta meteo, allerta meteo. L'allerta meteo bisogna mandarla per davvero quando serve, quando c'è il pericolo. Io mi ricordo quando ero presidente della provincia con l'ingegnere Zengarini, allora alzammo le sponde dei fiumi nella fuce del foglia e del metauro, mettemmo delle reti per non farle rompere alle nutrie che le perforavano le sponde, quindi io credo che gran parte, un buon 90% dei fenomeni, si possono, diciamo, prevenire, prevedere, evitare che succedano i disastri e quindi faccio un forte appello, io ho scritto più lettere, manco rispondo, la regione non rispondo nemmeno, per il Fosso Taccone che è il fosso principale che attraversa la città di Vallefoglia e anche Montelabate, hanno messo delle risorse a forza di scrivere, di protestare, di segnalare, di sollecitare di circa 800-900 mila euro, da due o tre anni ancora non si capisce che fine hanno fatto, sembrerebbe che abbiano delegato il consorzio di bonifica ma ancora devono far l'appalto, stiamo arrivando di nuovo all'inverno, la manutenzione va fatta nel periodo estivo, va fatta la manutenzione dei fiumi, vanno tolte le piante secche, vanno fatte le cose necessarie per evitare disastri. I cittadini possono fare qualcosa, possono adoperarsi oppure la burocrazia gli impedisce di intervenire? Le responsabilità del governo, chi governa deve decidere, non è pensabile che ciò l'autorizzazione, che i cittadini sono terrorizzati dalla forestale che hanno paura che gli fanno i verbali, chi ha responsabilità deve decidere, semplificare la vita, fare le cose veloci, evitare i disastri. Grazie.